Siamo in un'area che io chiamo una ferita aperta all'ingresso di Oggiono. Questo scavo è qui da quasi 20 anni. In un primo momento avrebbe dovuto essere costruita un cinema, una multisala, poi la società che fece questa proposta fallì, subentrò la società Rex Supermercati e qui avrebbe dovuto nascere il nuovo supermercato. Ci sono infatti dei cartelli che tutti gli oggionesi si ricordano la scritta e qui sorgerà la nuova Rex. Purtroppo anche questa seconda proposta fallì e purtroppo nel 2015 la proprietà di quest'area passò alla Rex ed entrò quindi nel fallimento. Da quando siamo stati eletti abbiamo cercato sempre di trovare una soluzione. Nel passato ci furono diverse polemiche politiche anche su quest'area, però, ripeto, abbiamo sempre cercato di lavorare per trovare una soluzione per il bene degli oggionesi. E proprio recentemente sono emersi alcune novità importanti e legate a questa zona. Esatto, abbiamo portato in Consiglio Comunale poco prima di Natale una proposta, una proposta di transazione che coinvolge appunto la Rex Supermercati in farrimento, una banca, un'assicurazione. Noi crediamo di aver trovato una proposta che porterà alla piena proprietà dell'area che ritorna al Comune di Oggione, questo era l'obiettivo prioritario, e ad un indennizzo per il Comune con più di 700 mila euro appunto di indennizzo che ci permetterà poi di sistemare quest'area. Quali sono gli obiettivi per il futuro di questa zona? L'obiettivo è portare a termine questa proposta di transazione che ripeto è stata approvata da tutto il Consiglio Comunale e che ora dovrà essere approvata appunto dalla Rex in liquidazione e dalla Axa Assicurazione che fu l'assicurazione che prestò la fideiussione. Una volta portata a termine questa transazione, l'area ritornerà in proprietà del Comune di Oggiono e quindi il mio obiettivo sarà quello di riuscire a sistemarla e a ridarla agli oggionesi entro la fine del mandato nel 24.